Nel primo anno di vita ha trasformato 5 immigrati in veri e propri cenciaioli, ora assunti a tempo indeterminato, in altre tante aziende. Ora il progetto nei nostri panni allarga il suo raggio di azione puntando anche sulle filature e più che raddoppiando i soggetti che saranno formati. Saranno 11 di cui 7 destinati alla formazione in filatura. Un potenziamento reso possibile dall'arrivo di nuovi sponsor del progetto promosso dall'azienda Rifò, Fondazione Opera Santa Rita e dal Comune di Prato. Vuol dire che c'è una domanda di formazione che coinvolge l'azienda e che coinvolge anche i lavoratori. Il valore aggiunto sta in questo incrocio. I protagonisti di questa nuova stagione sono 10 uomini e una donna. Provengono dai CAS, dal sistema SAI e per la metà sono stati strappati a situazioni di sfruttamento lavorativo. Da martedì inizieranno la preparazione con la parte dedicata alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Poi seguiranno 6 mesi di tirocinio che quest'anno grazie ai 100.000 euro degli sponsor sarà pagato di più. È stata una prerogativa aumentare da 500 a 900 euro così da rendere ancora più appetibile questo progetto per queste persone. 12 le aziende che ospiteranno i tirocini e che sono pronte all'assunzione in caso di buon esito. Il progetto infatti coniuga le finalità sociali al bisogno di mano d'opera che nel settore tessile sta diventando drammatico. Si fa un'opera di bene e dall'altra parte si dà la mano alle nostre aziende che hanno grossa difficoltà di personale, soprattutto nella filatura cardata perché questo è un progetto che alla fine è tutto verso la filiera del cardato riciclato. La prima impressione è stata più che positiva. Mi piacevolmente sorpreso perché la persona di nazionalità afghana che sono venuto a presentarmi, un ragazzo, io lo chiamo ragazzo di 37 anni, con un'esperienza tra l'altro di industria tessere nel suo paese in Afghanistan, mi è sembrata una persona molto competente, molto intelligente, molto empatico che secondo me ha delle capacità che vanno oltre all'impiego dove lo andremo a mettere noi. Molto probabilmente ci sarà anche la possibilità di fare carriera all'interno della nostra azienda. Ho già conosciuto, ha 20 anni e viene dal Gambia. Sa l'inglese e parla bene anche l'italiano. Ho avuto una bella sensazione.